La solita verve e il sorriso contagioso di quella che tutti conoscono per la sua proverbiale ironia e simpatia sembrano essersi spenti. La cantante amata, la cui presenza solare è stata una costante per anni, questa volta ci ha sorpreso con un volto triste e cupo. Non è stato facile per la Zanicchi nascondere la sua angoscia mentre parlava delle condizioni di salute del suo povero marito che da anni combatte contro una malattia devastante. Circa tre anni fa il marito della cantante aveva scoperto di essere affetto da una neoplasia ai polmoni. Da allora è iniziato un lungo e doloroso percorso fatto di ricoveri, cure e interventi medici, purtroppo senza soluzione definitiva. Si dice che il marito della famosa cantante stia pagando un prezzo altissimo per il vizio del fumo con una media di circa 90 sigarette al giorno. Recentemente sembrava che il marito della Zanicchi stesse finalmente migliorando con la neoplasia che sembrava in regressione. Ma nelle ultime settimane una terribile verità è emersa gettando ombra su qualsiasi speranza. La cantante ha confessato con il cuore pesante che suo marito ha subito la rottura di una vertebra e ha dovuto essere nuovamente ricoverato. Dalle analisi effettuate è stato rivelato che la neoplasia è tornata all'attacco con rinnovata ferocia. Nonostante tutto, la speranza rimane viva. Ci si augura che la tenacia e la forza d'animo dell'aquila di Ligonchio possano ancora una volta essere premiate e che possa emergere vittoriosa da questa difficile battaglia. In questo momento di difficoltà, la Zanicchi può contare sull'affetto e il supporto della sua vasta base di fan e della comunità in generale. La notizia delle sfide del suo amato marito ha toccato il cuore di molti, portando alla luce l'importanza della prevenzione contro i pericoli del fumo. Questo dramma personale della nota cantante ci fa riflettere sulla fragilità della vita umana e sulle sfide che possono colpire chiunque, anche le figure pubbliche amate e famose come la Zanicchi. Rappresenta un potente richiamo per tutti a prestare maggiore attenzione alla salute e ad abbracciare uno stile di vita sano. In questo momento di sconforto, la cantante e il marito dimostrano una notevole forza interiore e determinazione nel fronteggiare questa difficile situazione. La loro resilienza è un esempio per tutti noi di come la forza dell'amore e dell'unità possa aiutarci a superare anche le sfide più spaventose. Nonostante la malattia sia tornata a minacciare il marito della Zanicchi, la speranza non è ancora persa. La storia di questa coppia è ora una storia di speranza e coraggio, una lotta instancabile contro una malattia implacabile. L'augurio di tutti è che possano continuare a lottare e che la grinta dell'Aquila di Ligonchio possa ancora una volta essere premiata con la vittoria finale. Questo dramma personale mette in evidenza l'importanza della ricerca scientifica nella lotta contro le malattie gravi come il cancro. La scoperta di nuovi trattamenti e terapie è fondamentale per migliorare le prospettive dei pazienti e salvare vite umane. Questo caso ci ricorda quanto sia cruciale sostenere la ricerca medica. La storia della Zanicchi e di suo marito ci richiama anche all'importanza della solidarietà. In momenti di difficoltà è fondamentale che la famiglia, gli amici e la comunità, siano lì per sostenere chi sta affrontando una sfida così tremenda. L'amore e il sostegno emotivo possono fare una differenza significativa nel percorso di guarigione. L'atteggiamento della Zanicchi di fronte a questa tragedia personale ci insegna una lezione di umiltà. Anche le persone più famose e carismatiche possono affrontare momenti di vulnerabilità e paura. Questa umiltà nell'affrontare le sfide della vita è un segno di grande forza interiore. Nonostante la dura prova che la Zanicchi e il suo marito stanno affrontando, la speranza per il futuro rimane viva. La medicina continua a fare progressi e ci sono sempre nuove opportunità di trattamento in sviluppo. Questa storia ci insegna a non perdere mai la speranza e a lottare con determinazione per il bene della salute e dell'amore. Questa storia mette in evidenza anche l'importanza di prendersi cura della propria salute. Il vizio del fumo, che pare aver contribuito alle difficoltà del marito della Zanicchi, è uno dei comportamenti dannosi per la salute che possono essere evitati. È un promemoria per tutti noi di adottare uno stile di vita sano e di essere consapevoli dei rischi che comporta il tabagismo. L'amore tra la Zanicchi e suo marito è evidente nella loro lotta congiunta contro la malattia. Questa storia ci ricorda che l'amore può essere una fonte incredibile di forza e sostegno in momenti difficili. La loro unione ed edizione reciproca sono un esempio di come affrontare insieme le sfide più spaventose della vita. Questa vicenda sottolinea anche l'importanza di cercare soluzioni innovative e terapie avanzate nella lotta contro il cancro. La medicina continua a evolversi e il caso della Zanicchi-C incoraggia a sostenere la ricerca scientifica e a cercare nuove opzioni di trattamento che possano migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie gravi. In conclusione, la storia della Zanicchi e di suo marito è una testimonianza di speranza, resilienza e amore di fronte alle avversità. È un richiamo alla consapevolezza sulla salute, alla solidarietà e all'importanza della ricerca medica. Che la loro storia possa ispirare tutti noi a essere più consapevoli, solidali e speranzosi nelle nostre lotte personali e collettive. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto!